Il corso anno torna in funzione il centro di accoglienza per senza tetto nell'antica chiesetta all'interno dell'area del Policlinico di Milano. Qua c'è il cambio di mutande, intimo, c'è l'asciugamano, magliette, calzini, c'hanno anche i guanti. Una chiesa inutilizzata, un ospedale, il Policlinico di Milano, la cui missione fondativa è aiutare gli ultimi, una fondazione, progetto Arca, che gli ultimi li accudisce. Sono gli ingredienti del centro per senza dimora che da questo pomeriggio apre le porte nella chiesa di Via Pace a Milano, nel cuore del Policlinico. 20 posti letto che al bisogno possono aumentare per accogliere homeless che da anni gravitano all'interno delle mura dell'ospedale milanese. Abbiamo dato questa soluzione che è in continuità con la missione secolare della fondazione Cagranda, che è quella di mettersi al servizio caritatevoli dei soggetti più fragili. Ed è quindi un'azione che abbiamo fatto non solo col cuore, ma è credo un nostro dovere accoglierli. Il centro di accoglienza ha l'ambizione di essere a termine. L'obiettivo è il reinserimento sociale, per cui qui passeranno la notte, poi di giorno avranno un luogo dove stare, essere ascoltati da assistenti sociali e provare un percorso di reinserimento, sia abitativo che lavorativo. Una sfida che la regione ha promesso di sostenere mettendo a disposizione alloggi dell'Aler.